a sparate mezzi orn curva la casa cucinà un tempo si diceva proprio così lanciano la tradizione dello sparo di mezzogiorno che in tempi passati indicava l'orario in cui tornare a casa e prepararsi per il pranzo pio fiore di vincenzo possiamo definire l'ultimo sparatore sì sì perché purtroppo dal 2017 che ho smesso io dopo 27 anni avevo cominciato nel 91 sì non si è sparato per un periodo adesso hanno cominciato con una soluzione alternativa diversa che non prevede la figura del dello sparatore del fochino nessuna figura del genere siamo davanti alla porticina che lei per quanto tempo è avarcato per quanti anni per 27 anni sono le 126 famose scale per salire le facevo con calma se arrivavo con calma se no dovevo farle di corsa se arrivavo un po in ritardo qualcuno mi si metteva a parlare qua giù se mi trovavo al mare se mi trovavo non lo so fa una scambagnata si torna dovevo tornare il tempo che avevo per salire dovevo metterci come è nata questa tradizione lancianese la tradizione è nata nel 1867 si è dovuto hanno dovuto modificare il funzionamento dell'orologio quindi l'hanno dovuto riparare sistemarla alla francese e comunque per questo periodo hanno pensato di avvisare la cittadinanza con uno sparo del cannone alla sistemazione dell'orologio hanno ritenuto una cosa utile lasciarla in funzione il cannone è andata avanti per ormai per secoli si è sospeso solamente nei periodi bellici nella guerra del 15 18 del 43 quel periodo lei sono state sospese per diversi anni lei è ereditato tra virgolette il mestiere di sparatore sì lo faceva mio zio e comunque non c'era nessuno che voleva farlo che poteva anche farlo alla fine sono riuscito avere il patentino avevo un lavoro che mi permetteva comunque questa pausa per venire a sparare l'ho fatto sempre volentieri per la tradizione per la città da alcuni anni era stato di nuovo sospeso e da circa un mese è tornato a farsi sentire ma in maniera diversa e cioè con un botto registrato scelta fatta per motivi burocratici e di sicurezza c'è appena stato lo sparo di mezzogiorno da un po di tempo è registrato le piace ma al posto di niente è meglio questo che niente all'epoca si ricorda che a mezzogiorno si doveva andare a mangiare tutti quanti a casa si ritiravano però non tutti mangiavano mezzogiorno in punto c'è appena stato lo sparo registrato però è come un minestrone riscaldato un'antica tradizione ogni giorno a mezzogiorno a lanciano lo sparo le piace in questa versione questa versione non tanto era meglio prima si sentiva un bel botto e si sentiva anche da lontano e quindi era come un ritiro per tornare a casa